La Francia automobilistica si è bevuta all'Italia automobilistica e noi lì a guardare. Beh, vi avverto, sarà un video lungo, l'argomento è complesso e le cose da dire sono davvero tante, quindi seguitemi. Benvenuti in questo nuovo video, come detto nella intro oggi voglio parlare di Francia versus Italia, automobilisticamente parlando, e di come i cugini d'Altarpe si siano bevuti la nostra industria automobilistica. Perché faccio questo video? Soprattutto perché adesso non è certo un argomento di primo pelo. Beh, ho voluto farlo dopo aver letto l'articolo di Hans sulla presentazione di Fiat 600 e di Fiat Topolino e delle dichiarazioni di Elkan, ma soprattutto di quelle di Olivier François, CEO di Fiat, e di quello che Tavares, amministratore di Stellantis, il gruppo di cui Fiat fa parte, riguardo il futuro del marchio. Ma leggiamolo insieme così vi darò il mio parere e voi potete farvi il vostro, ve lo lascio anche in descrizione. Magari non sono buono a interpretarlo, ma leggiamo. Arrivano la Topolino e la nuova 600, saranno prodotte fuori dall'Italia, Elkan futuro entusiasmante. Già, le due cose non è che mi piacciono tanto. Arrivano i nuovi modelli iconici di Stellantis, la Topolino e la 600. La presentazione sulla pista 500 sul tetto del Lingotto, luogo storico tra presente, passato e futuro, è in un giorno simbolico per il brand Fiat, il 4 luglio, lo stesso in cui nel 1957 è nata la prima 500 e nel 2007 la sua erede, Stellantis ha profonde radici qua in Italia. Stellantis. Dove abbiamo un glorioso passato, Stellantis, un forte presente e un futuro entusiasmante, sottolinea il presidente John Elkan. Però i due modelli non saranno prodotti in Italia, ma nasceranno rispettivamente in Marocco, dove viene già prodotta anche la Citroën Ami e ATC in Polonia, spero si pronunci così. Gli stabilimenti italiani legati al brand storico di Stellantis, Melfi, Pomigliano, Mirafiori e ATC hanno già i loro prodotti o li avranno secondo i piani previsti, assicura Olivier François, CEO del marchio Fiat. François spiega che la nuova 600 non può essere considerata l'erede della 500X, che mai qualcuno l'abbia pensato, e che continuerà ad essere prodotta a Melfi. Sono due auto diverse, sono complementari, la nuova 600 del segmento B è più piccola, più bassa, non è un SUV e non è un 4x4, una 500X Sport, insomma, diciamo così. Sottolinea il manager che aggiunge, in Italia produrremmo più auto se se ne comprassero di più, gli italiani intende. L'Italia è l'unico paese in Europa che arretra sull'elettrico perché non ci sono incentivi sufficienti, quindi se ne vogliamo produrre di più in Italia, ne dobbiamo comprare di più in Italia. Il messaggio al governo che, secondo quanto più volte dichiarato dal ministro Adolfo Urso, mira a raggiungere un accordo con Stellantis che preveda anche una maggiore produzione in Italia. Un incontro fra il ministro e l'amministratore delegato Carlos Tavaresci potrebbe tenersi già all'inizio della prossima settimana. In due anni, sottolinea François, abbiamo reso Fiat più profittevole e più globale che mai. Fiat è diventato il marchio Stellantis numero uno per volumi ed è leader nei tre paesi, nei tre principali mercati, Italia, Brasile e Turchia, in tre region diverse, spiega François. Quindi comunque è il numero uno di Stellantis per vendite, ma non in Italia per la produzione. Nei prossimi tre anni il nostro piano di prodotto riporterà Fiat al posto che le compete. Leader, punto di riferimento è Love Brand. Ricordatevelo questa parola. Per Fiat il meglio deve ancora venire, c'è una grande considerazione del brand Stellantis, e si vedrà nei prossimi tre anni con l'offensiva dei prodotti che presenteremo. Ci vediamo a luglio del prossimo anno e poi ancora a quello dell'anno successivo. Va bene, ogni luglio. La nuova Fiat Topolino, sottolinea il manager, qui parla un po' della Topolino, ma è un discorso che poi approfondiremo in un altro video, ne voglio parlare perché è interessante. Ma leggiamo l'ultima parte. La nuova esperienza di acquisto online inizia oggi con la fase di pre-booking B The First. Con la Fiat 600, Fiat ritorna nel segmento B, la sorella maggiore della nuova 500. La sua antenata è la 600 degli anni 50, popolare Family Mover. È la nuova icona della Fiat elettrica. Sulla pista dell'ingotto è stata presentata la versione Top di Gamma, la nuova Fiat 600 è la prima, la prima è il nome della versione, e la versione Fiat 600 è Red. Il prezzo di listino chiave in mano di Fiat 600 è Red, è di 35.950 euro, 29.950 euro con incentivi statali in caso di rottamazione. Mentre per la Top di Gamma Fiat 600 è la prima, è di 40.950 euro. Prezzo da classica Family Mover. Non credo che quello che andrò a dire adesso sia solo una interpretazione delle dichiarazioni, anche perché mi sembrano abbastanza eloquenti. Però, prima di iniziare una battaglia Italia-Francia, penso sia doveroso dire un paio di cose. Innanzitutto, è vero che hanno reso Fiat più profittevole, non è che ci voleva poi così tanto, e questo è un merito del gruppo Stellantis, ma soprattutto è una grande colpa nostra, non essere stati in grado di farlo, intendo. Non solo di chi l'ha diretta, ma anche di politici, sindacati, mercato del lavoro italiano e anche di noi italiani in generale. Non è che i personaggi che vi ho appena elencato fossero stranieri, almeno fino a poco tempo fa. In fondo ci piaceva anche a noi, a Otto tutto sommato a buon mercato, e posti di lavoro sicuri, a volte troppo sicuri. Il tutto a spese di noi contribuenti, che non potevamo certo lasciar morire l'azienda automobilistica di Stato. Stellantis ragiona in modo diverso. Se abbiamo un'azienda, dobbiamo farla diventare profittevole, altrimenti non ne vale la pena. Un discorso, direi, più che giusto. E qui veniamo alla frase che più mi ha colpito. Se gli italiani comprassero più auto, ne produrremmo di più in Italia. Anche qui, due differenti modi di vedere la cosa. La prima è, ma come si permette questo a venirci a dire che se vogliamo produrre più auto, dobbiamo acquistarne di più, qui in Italia intendo, visto che nel resto del mondo il marchio vende e vende tanto, solo che se le producessimo qui in Italia, non sarebbero concorrenziali. E qui torniamo al discorso di prima. Il nostro mondo del lavoro è ormai putrefatto. E' colpa dei francesi questo? Beh, non credo. Allora, cos'è che mi fa tanto arrabbiare? Beh, questo mio maledetto campanilismo, questo voler pensare che noi italiani siamo i migliori, che dobbiamo eccellere in tutto quello che facciamo. E non mi va che qualcuno pensi il contrario, anche se ha ragione. Il fatto poi che siano i francesi a dircelo, perché è nato in noi una certa diffidenza, dai, nei loro confronti, mettiamola così, lo rende ancora più negativo. Una cosa che però è saltata ai miei occhi, leggendo quelle frasi, è che il marchio Fiat potrebbe essere considerato un giocattolino, qualcosa con cui poter sperimentare cose nuove, che se vanno male, a loro importerebbe poco o niente. Vedi il discorso del colore grigio, che non verrà più messo a listino, neanche come optional, nei nuovi modelli del lingotto. Solo per dirne una. Il marchio dei colori e dell'ottimismo, come lo stesso Olivier François lo ha definito. Insomma, un bambino essuberante, che vestiamo in modo simpatico, e che fa ridere tutti gli altri. Che nervi! Il fatto è che sia anche possibile, che portino davvero la Fiat ad essere un marchio di successo. E questo ci farà bruciare ancora di più il sedere, ne sono convinto. Solo che potrebbero farlo anche senza noi italiani, senza il nostro apporto industriale e manifatturiero, intendo. Il gusto italiano viene esportato in tutto il mondo, da sempre, a un certo appeal, che poi vengono prodotte in Africa o nell'est Europa, poco importa, sempre di stile italiano stiamo parlando, giusto? Bene, basta, non voglio aggiungere altro, ma vi aspetto nei commenti, per sapere come la pensate, e come avete interpretato voi, le dichiarazioni lette in questo articolo. Non mi resta che salutarvi, e rimandarvi al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao ciao! Grazie a tutti